Vi ricordate della vostra segnalazione per gli orari di chiusura della Biblioteca Civica di Cassola durante il periodo natalizio? Ecco la risposta dell'assessore alla cultura Marta Orlando Favaro. La nostra biblioteca ha e porta avanti da anni un'apertura settimanale che è la più ampia di tutte le biblioteche del circondario e siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19. Durante la pausa invernale delle vacanze natalizie siamo stati chiusi 10 giorni di cui 5 erano festività pertanto la chiusura effettiva del servizio è stata di 5 giorni necessari anche per dare al personale le dovute vacanze, le dovute ferie. E l'assessore pone altre precisazioni. Sto detto anche che sono stati chiusi 3 settimane durante l'estate, cosa che invece non risulta essere vera in quanto le chiusure sono state effettivamente di 4 giorni dal 10 al 14 di agosto. Neanche un sabato, diversamente da quanto detto, è stato chiuso, se non un sabato mattina a maggio per il cambio del servizio di gestione del prestito bibliotecario che è affidato a una cooperativa esterna.